A cura della redazione giornalistica. Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara, Penne. È stato pubblicato l'avviso che riguarda la misura numero 10 del programma di sviluppo rurale 2014-2020 denominato Tutela degli habitat seminaturali per la conservazione della biodiversità. Lo ha reso noto l'assessore regionale alle politiche agricole Dino Pepe. L'attivazione di questa misura incoraggia la diffusione di processi produttivi sostenibili dal punto di vista ambientale che favoriscono la tutela delle risorse naturali, suolo e acqua, della biodiversità e in particolare dell'agrobiodiversità. Negli appezzamenti impegnati in questi processi produttivi, ha spiegato Pepe, si dovranno seminare essenze vegetali che garantiscano il massimo prolungamento della vegetazione e della fioritura per favorire la funzione di rifugio della fauna e avifauna selvatica e l'attività dell'entomofauna utile alla fecondazione gamica delle specie vegetali. Prenderà il via nell'antico borgo di Rosciolo, frazione di Magliano dei Marsi, sabato 23 e domenica 24 settembre, l'ottava edizione di Sapori e Saperi del Velino. L'intento della manifestazione è quello di valorizzare il territorio attraverso le sue risorse, non solo ricorrendo all'eno, gastronomia e all'ambiente. Ad animare l'appuntamento di sabato ci saranno le opere del gruppo 2487 artisti SLM, artisti cioè con la passione dell'universo e delle arti visive, musicali e digitali. Per quest'anno i creativi si sono ispirati al tema della tradizione, riportando la luce e gli antichi sapori e saperi nei loro componimenti attraverso vari generi di installazioni, fotografie, pittura, scultura, opere e sonore. Domenica 24 invece sarà la volta del dibattito. L'Aquila ospiterà dal 22 al 24 settembre prossimi il secondo raduno ricordando il battaglione Alpini, l'Aquila, grazie al comitato organizzatore prima e seconda zona ANA Servizi Abruzzi. L'ANA, lo ricordiamo, è l'Associazione Nazionale Alpini, presieduto da Maurizio Capri. Tre giorni di eventi dedicati al mondo delle forze alpine che hanno prestato servizio nel battaglione L'Aquila e nel nono reggimento. Il sindaco Pierluigi Biondi ha assicurato la disponibilità delle strutture comunali, offrendo la più ampia collaborazione per i tre giorni del raduno. Il comitato organizzatore ha voluto ampliare l'orizzonte delle commemorazioni da effettuare, individuando quattro alpini decorate al valore militare e appartenenti alle province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo. Venerdì una messa sarà celebrata nella chiesa di San Bernardino da Monsignor Santo Marcianò, ordinario militare per l'Italia. Al secondo raduno regionale sono state invitate le autorità politiche, religiose, amministrative, civili e l'intera comunità regionale abruzzese. Da diverso tempo riceviamo segnalazioni da parte di cittadini preoccupati per la presenza di parcheggiatori abusivi di colore al mercato del lunedì a Pescara Porta Nuova. Appaiono violenti, molte volte in lite fra loro, e sembrano aver creato un vero racket del parcheggio abusivo in una parte del territorio tra antistadio e stadio, creando anche turbativi alla circolazione. Lo afferma Donato Fioriti, presidente dell'Associazione dei Consumatori Contribuenti Italiani, sezione Abruzzo. Alcuni commercianti del lunedì, conclude Fioriti, paventano anche accadimenti di furti e borseggi durante la loro presenza. Di certo, che questo sia vero o no, la situazione si appalesa visivamente come pericolosa e desta la preoccupazione nei più. Nuova operazione di sgombero del tunnel della stazione centrale di Pescara da parte della Polizia Municipale. Ieri il servizio antidegrado, coordinato dal comandante della Polizia Municipale Carlo Maggitti, coordinato dal Maggiore Adamo Agostinone e su istanza dell'amministrazione attraverso l'assessorato alla Polizia Municipale, ha proceduto di nuovo alla bonifica dell'area. Torneremo continuamente a presidiare quella zona, sicura l'assessore alla Polizia Municipale Gianni Teodoro. Lo faremo tutti i giorni finché il fenomeno non cesserà, perché non si ferma dopo l'estate il controllo del territorio e la lotta al degrado. Nel tunnel sono state trovate sei o sette persone, gli agenti le hanno invitate ad uscire e a quanti hanno voluto affidati alla rete di associazioni che collabora con l'amministrazione nella lotta contro il degrado e l'accoglienza di chi ha bisogno. La galleria è stata poi liberata dai materassi e da tutti gli oggetti utilizzati per ricavarsi un riparo per la notte, nonché dai rifiuti che si erano accumulati. Ricordiamo l'appuntamento in vista delle settimane sociali che sabato prossimo si terrà a partire dalle ore 9.30 presso il Cinemateatro Sant'Andrea di Pescara con l'economista Leonardo Becchetti organizzato dal pastorale per il sociale di lavoro dell'Arcidiocesi di Pescara Penne. Siamo alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e provincia si prevedono sulla costa cielo sereno fino a metà mattino e nuvoloso nel resto della giornata con temperature da 18 a 26 gradi e venti moderati e nelle zone interne cielo sereno con temperature da 15 a 23 gradi e venti da deboli e moderati. Il mare è previsto da poco mosso a mosso. Ed era l'ultima notizia per questo nostro radiogiornale. da Massimiliano Spiriticchio in studio e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne. A voi tutti grazie e buona giornata. Grazie a tutti.